Music Never Lies Pierlu, buongiorno Pierlu Allora, Music Never Lies, in trasferta nella città di Miami siamo nel centro commerciale di Brickell dove praticamente vive tutta la città di downtown Miami che è all'interno della Miami stessa mentre invece la parte che conosciamo un po' di più quella un po' più particolare, Art Deco, Moto, Custom macchinone sbarmittate eccetera eccetera è più la parte Ocean Drive dove appunto c'è Miami Beach che è un'isoletta davanti alla parte dove siamo noi un'isoletta allungata in realtà infatti per arrivarci bisogna attraversare dei ponti e pagare anche l'autopedaggio va bene? Allora, vedi qui, l'Art Deco anche qui comunque si respira e si vive perché qui tra un grattacielo e un altro poi ci sono anche tutta una serie di informazioni per chi vuole in qualche maniera vivere Miami qui è tutta una connessione quello che in realtà non avevamo trovato a Cuba dove era un po' più difficile attaccarsi a internet ma più per una questione politica che tecnica perché ormai si sa internet is everywhere quindi è abbastanza facile e qui è tutto connesso qui è tutto connesso abbiamo un ascensore Pierlu te la farei vedere allora tu hai la tua tessera della camera dell'hotel poi te la faccio vedere Pierlu tu praticamente appoggi la scheda a un display e il display ti dice già a che piano devi andare non c'è un bottone da appiggiare capito? c'è proprio l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale tu ti appoggi la scheda al display il display ti dice piano 33 camera numero sanno tutto eh qui sanno tutto ragazzi guarda che figata Pierlu tac piano 33 prendi l'ascensore C guarda è incredibile A B C D approva proprio eccolo tac guarda Pierlu vieni qui questa è la super figata niente bottoni senza mani guarda e fa tutto da sé siamo avanti siamo avanti siamo avanti a Miami siamo a Miami allora guarda che bellezza Pierlu alla mia destra guarda che bellezza mentre qui vedi c'è il negozio di Victoria's Secret e anche quello ha un suo perché se vogliamo proprio dire la verità però non ci sono sfilate Pierlu poi ecco passa ovviamente che deve passare il camion dei pompieri vedi e diciamo che le sirene sono un po' costante nei nostri video ma qui è veramente bello Pierlu oggi giornata strana è un po' umido un po' piove qualche goccina di pioggia un po' un po' di sole ma insomma è il clima della Florida va bene allora via Pierlu tu rimani lì pronto in attesa di aggiornamenti che noi ti manderemo regolarmente ok ciao Pierlu da Miami anzi da Brickell ciao Pierlu music never lies con Edith tu rimani siritanchante ci lo seus davo pespo pespo pespe pespo pespo